I carabinieri stanno passando al setaccio i numeri di telefono custoditi nelle rubriche dei cellulari trovati nell'appartamento di Viale Parioli, dove le due liceali facevano l'esquillo per risalire all'elenco completo dei clienti. Per ora sono cinque le persone raggiunte da provvedimento di custodia cautelare. Si tratta di cittadini italiani tutti incensurati, coinvolti a vario titolo, tra gli sfruttatori anche la madre di una delle due studentesse, una donna residente al Prenestino, mentre l'altra mamma è stata quella che, dopo aver ricevuto una lettera anonima, si è rivolta ai carabinieri facendo partire le indagini. Uno degli inquisiti è accusato di aver ricattato le ragazze chiedendo soldi per non diffondere immagini girate col telefonino. Un giro brutto fatto anche di consumo di cocaina. Le due ragazze di 14 e 15 anni avevano una ventina di clienti adescati tramite social network. Anche le trattative sui prezzi e gli appuntamenti venivano gestiti online. Stupore a scuola è anche nel rispettabilissimo palazzo dei Parioli, dove nessuno si sarebbe accorto di nulla. Ora sarà la procura a decidere le modalità con le quali le ragazze saranno riaffidate alle famiglie.